Buongiorno amati fratelli, il Signore vi benedica, benvenuti a Radio Blast. Good morning Dora. Good morning to you too. Buongiorno buongiorno amici e fratelli, Dio vi benedica. Grazie Signore, cominciamo di nuovo il programma di oggi con fratello Giuseppe. Buongiorno amici. Secondo re 17, 33 e 34 Così temevano il Signore e servivano al tempo stesso i loro dei, secondo le usanze delle regioni da cui erano stati deportati in Samaria. Anche oggi essi continuano a seguire le loro antiche abitudini. Non temono il Signore e non si conformano né alle loro leggi e ai loro precetti, né alla legge e ai comandamenti che il Signore prescrisse ai figli di Giacobbe, da lui chiamato Israele. Giosuè 24, 14 fino a 18 Dunque temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dei ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dei che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dei degli amorei nel paese dei quali abitate, quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore. Allora il popolo rispose e disse Lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dei, poiché il Signore è il nostro Dio, è Lui che ha fatto uscire noi e i nostri padri dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ha fatto quei grandi miracoli davanti ai nostri occhi e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. E il Signore ha scacciato davanti a noi tutti questi popoli e gli amorei che abitavano il paese. Anche noi serviremo il Signore, perché Lui è il nostro Dio. Matteo 6, 24 Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e mammona. Matteo 4, verso 10 Allora Gesù gli disse, Vattene Satana, poiché sta scritto, Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Primo Giovanni 2, da 15 fino a 17 Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E il mondo è un mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza della carne, la concupiscenza della carne. E il mondo è un mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza della carne. Grazie Signore per la Tua parola. E Dio ti veredica Giuseppe, benvenuto a Radio Blast. Grazie, grazie per l'invito. Eccoci qui, in questa giornata, oggi nuvole oggi. Sì. Infatti non siamo sotto gli alberi, siamo dentro. Non si sentono gli uccelli cinguettare, ma lo Spirito Santo cinguetta nel nostro cuore. Amen. La colomba di Gesù è nel nostro cuore che sta lodando il Signore. La colomba dello Spirito Santo. Amen. Come hai dormito? Bene, molto bene. Dora? Bene, grazie a Dio. Avete dormito bene? Sì. Quindi siete svegliati bene. Qui è mattina e so che abbiamo diversi orari. Da qualche parte pomeriggio, qualche altra parte sera. Che ora sono in Taiwan? Ah, in Taiwan? Non lo so. In Taiwan là c'è… Sono come 12 ore la differenza. Sì, la differenza sarà più o meno 12 ore. Di 12 ore, sì. Quindi se qui sono le 10, là sono le 22 di sera. Sì. Gloria al Signore. Bene, ovunque siete fratelli, vi vogliamo bene. Amen. Ringraziamo Gesù. Allora, da dove cominciamo? Oggi abbiamo molte cose, molto terreno da coprire. Sì, è vero. E speriamo di farcela, va bene. E speriamo di non tenere i fratelli troppo tempo. Anche perché è stata una settimana piena. Siamo stati di corsa di qui, di là. Sono stata sorpresa. Il Signore comunque ti ha dato dei messaggi bellissimi da condividere oggi con i fratelli. Anche se quasi tutta la settimana eravamo in viaggio, tu guidavi, io ti chiedevo le domande mentre tu guidavi, facevo le registrazioni così. Sì, i bambini dietro a fare la scuola. Con il computer scrivevo tutte le cose che tu mi dicevi mentre tu guidavi. È stato interessante, come ho detto prima, la vita di missionari è un'avventura. Sì, rispondere ai fratelli a questa registrazione che mandiamo e dove interrompere perché l'informazione è antizia, da che parte è, da che parte non è. Poi siamo incapati in un temporale enorme. Ci siamo bagnati tutti, fradici. Così siamo andati in un negozio di seconda mano a comprare delle cose per coprirci. E lì ci pioveva dentro anche lì. E la signorina, la signora che era lì, tutta, oh, mi vergogno, piove dentro qui. E così ha messo una specie di camicia per terra a raccogliere le gocce. E non voleva mettere una pentola per non farsi troppo, diciamo, vedere dai clienti. E così io quando ho visto questa camicia, l'ho raccolta. Guarda, ha dimenticato la camicia. No, no, lascia lì, è per l'acqua. Dopo che è successo? Dopo sono entrata io. Anch'io volevo aiutarla a raccogliere questa camicia. Cioè, no, 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 lascia lì. E lei è tutta a ridere. No, lo lascia lì. Poi arriva Andrea. Andrea lo stesso. Arriva Andrea. Andrea lo stesso. Arriva Dora. Uguale. Questa camicia l'abbiamo raccolta. E questo non smetteva di ridere. Glorio del Signore. Amen. Ok, bene. Adesso in questi tempi stiamo, diciamo, siccome stiamo visitando aree, stiamo visitando una casa. Stiamo controllando una casa che sembra che è abbastanza potenziale. Per il nostro budget, i soldi che riusciamo a affittare. Ma abbiamo controllato tante, tante. Sì, perché ce n'è uno che era bellissimo, però questo vuol doppio. E non ce l'abbiamo affatto con i soldi. Allora, ci siamo accontentati di questa. C'è qualche dettaglio, giusto? Dettaglio? Sì, perché stavamo controllando questa casa. Vi abbiamo già parlato di questa casa, no? Che stiamo di nuovo vedendo cosa si può fare. E il problema è che, insomma, ci sono pipistrelli. Sì, ci sono pipistrelli. Il tetto è pieno di pipistrelli e abbiamo il padrone, questo, quell'altro, abbiamo aiutato. E abbiamo eliminato, diciamo, quasi tutti. Però ancora non è finita la storia. Ogni tanto lo troviamo uno in giro di qua, nei giardini, lo mettiamo dentro nel sacchetto. Perché in questa zona c'è stata... Cos'è che c'è stata un'alluvione? Cos'è che c'è stata? Qualcosa di grande. Sì, è stata una specie di alluvione, tempo fa, e c'è stata un'inversione di pipistrelli. Tutte le case sono state pipistrellate, non piastrellate, pipistrellate. E allora qualcuno è ancora afflitto a questione di quella. Comunque adesso mi sembra che è quasi risolto. Ieri stiamo controllando la casa di là, con i locali dalla casa, e viene Jasmine gridando. Cos'è che gridava? Il topolino, il topolino! Il topolone, c'è un topo che correva in giro per la casa. The mouse, the mouse! E allora siamo andati a comprare quattro trappole, trappole dappertutto, con un po' di formaggio, un po' di prosciutto, prosciutto cotto, un po' di pesce. Cioè, li trattiamo bene nei topi qui, nella trappola. Però tutte le trappole stamattina sono tutte intatte, perché, secondo me, abbiamo fatto e il caro Adrian ha chiuso tutti i buchi, perché sono case fatte di legno, no? E allora ha tappato tutti i buchi e il topo è sparito. Ma comunque sembra che... Adrian ha fatto le indagini e dice che nella casa non ce ne sono. È venuto da fuori questo manigoldo. Sì, sì. E quindi, comunque se dovessero apparire dalle altre, non abbiamo problemi, perché pensavamo di incaricare le sorelle... No, no, no! Ma scusa, le donne non sono uguali agli uomini? No, no, no! No, stavolta no! Ah, quando vi conviene? Sì, quando vi conviene stavolta no! E poi c'è il fatto che i pipistrelli si combattono, bisogna andare su di notte, bisogna andare su quando cala... Sai quei film di Dracula che esce di notte? Dracula, i pipistrelli sono così. Quando cala il sole che è buio, i pipistrelli escono. È lì che si va a chiudere i nidi, eccetera. Quindi pensavamo di mandare le sorelle con la torcia elettrica a dare caccia ai pipistrelli di notte. Cosa pensavamo? Almeno quello potete farlo. No, grazie. Guarda, io posso rimanere qui, vi preparo qualcosa di buono, cucino qualcosa. E voi lavorate sui pipistrelli. Gloria al Signore. Va bene. Pensi che i fratelli avranno ancora coraggio in questa zona? I fratelli che sono assfatti a cappuccino alla brioche dovranno imparare a fare meno. Tante comodità non ci sono. Amen, grazie Gesù. No, ma è interessante. Per noi sono delle esperienze nuove, interessante. e non ci dà fastidio di sapere che ci sono pipistrelli. Faremo il nostro meglio di limpiare tutto, di fare... Vuol dire pulire tutto. Di pulire tutto. Limpiare in spagnolo. In spagnolo, ok. Di pulire tutto e fare una casetta bellissima dove il Signore può... Una casetta. Sì, dove il Signore può aiutarci a servire a Lui con tutto il cuore. E queste cose, questi dettagli... Ma ridiamo e ci diamo da fare. Grazie, Signore. A pulire. Grazie, Signore. Va bene. Allora, cosa c'è il prossimo momento su questo schermo? Prossimo, abbiamo un messaggio che il Signore ti ha dato due giorni fa. Ok, vuoi metterlo adesso questo messaggio, va bene? Sì, sì, sì. Il titolo è La chiave del successo e del falimento, una scelta che Dio dà a noi. Sì, questa settimana infatti abbiamo potuto rallentare un po' i viaggi qua di là e così ho avuto tempo di pregare, salire sulla montagna e ricevere i messaggi di Gesù. Me ne ha dati tre negli ultimi due o tre giorni, questo è uno di quelli. Allora, l'ho iscritto, vuoi leggerlo tu, Angelina? Ok. Così io mi riposo un po'. Va bene. Perché se hai la vita del messaggero è pesante, mi devo riposare. Ti riposare troppo. Quindi, perché non la vuoi un po' tu? Ok. No, ti faccio lavorare dopo, ti chiedo delle domande. Ok, allora qui ci pensi tu a trasmettere questo messaggio. Con l'aito di Dio sì. Allora, come si chiama? La chiave del successo e del falimento, una scelta che Dio dà a noi. E l'illustrazione l'hai messa sulla radio? Sì. Perfetto. Sì, sì. Va bene. Illustrazione con la scrittura di Matteo 7, 24 fino a 29. Allora, illustra la... Allora, vuoi descrivere l'illustrazione? Sì. Allora, c'è l'illustrazione di... Nel centro c'è l'immagine di questa famiglia, che vediamo la casa che si sta affondando e la famiglia sta correndo. Sta correndo. Sta correndo. Sta correndo. Scappa. Sì. Per salvarsi. Sì. A sinistra c'è un pianeta in fiamme. C'è un pianeta in fiamme e a destra c'è il giudizio. C'è il giudizio con un uomo in ginocchio davanti a Gesù. Sì. E la scrittura è? E la scrittura è Matteo 7, 24 fino a 29. E dice... Gesù dice... Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa. Ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta... Impeto. Impeto contro quella casa. Ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quindi Gesù paragona la nostra vita a una casa. Quindi ci sono case basate sulla roccia. Infatti qui vediamo che costruiscono... Quasi tutte le case sono di legno. Bellissime, grandi, tutto. Però il fondamento lo mettono sul cemento. Quindi sassi, rocce, poi il cemento. E poi costruite... Sono ottime. Vengono i terremoti, tutte queste case si smuovono, però non crollano. Non crollano. Quello di cemento invece si. Allora, vai avanti Angela. Una vita di felicità o di sconforto? Vittoria o sconfitta? Contentezza o disperazione? Di vittoria con Cristo o essere separati da Lui, lo sposo celeste per sempre? E dipende da noi. Vedi Matteo capitolo 25. Dio scelse Mosè per guidare il suo popolo, ma prima gli dovette insegnare ad abbandonare la sua alta posizione e vantaggi, il suo mondo in Egitto, e imparare l'umiltà e di ubbidirli in ogni cosa. Vedi Esodo capitoli 1 fino a 4. Quindi il messaggio sta parlando che non possiamo essere usati dal Signore e il Signore non ci può usare se prima non siamo disposti a imparare... L'umiltà. ...affinché Lui ci possa usare. Quindi è inutile cercare di dire Gesù usami se non siamo disposti a imparare. Quindi Dio aveva scelto Mosè, però siccome lo aveva voluto fare di fretta e furia, salvare Israele a suo modo, ha cominciato a ammazzare gli egiziani. E Dio l'ha mandato 40 anni in Midian a imparare e a imparare di aspettare il Signore, ascoltare il Signore, ubbidire il Signore, fare le cose a modo del Signore. Non a modo che ci insegnano nel mondo, cioè con il braccio della carne. Ma molti di noi vogliono invece evitare la scuola basilare e cominciare subito prima di aver imparato le indispensabili lezioni. Iniziare dall'alto come profeti, grandi insegnanti o apostoli. Vogliono essere usati subito da Dio, con un doni miracolosi, magari ricevuti con un tocco della mano o grazie a un pezzo di carta con un timbro, chiamato diplomateologico, elargito dalle religioni umane. Dio chiamò Saulo, Paolo di Tarso, ad essere uno dei più grandi uomini di Dio mai esistiti. Dovete imparare cambiando tutte le sue idee, cambiare religione, denominazione, dottrina, a costo di essere odiato e rigettato dal suo stesso popolo. Imparare a glorificare Dio con l'amore invece che con l'odio. E noi? Siamo disposti a farlo anche a costo di dover cambiare tutto nella nostra vita, cambiare la nostra religione e idee, il nostro modo di fare, le nostre abitudini, dottrine, abbandonando tutto ciò che non assomiglia a Cristo e il suo Vangelo di salvezza per raggiungere i perduti. Ebbene, riflettere. Siamo disposti ad abbandonare tutto. Quando Gesù ci chiama, lui è Dio. Quindi buttare le ortiche alle religioni, i modi di fare, i lavaggi del cervello e seguire Gesù nel modo che lui vuole. Dio chiamò Giuseppe a salvare Israele dalla carestia. Ha dovuto imparare a resistere alle tentazioni sessuali della sua padrona. Imparare a lodare Dio mentre era imprigionato a causa della sua integrità. Imparando a perdonare, a amare i suoi fratelli che pure lo avevano odiato, tradito e venduto come schiavo. Rimanendo fedele fino a che poteva essere pronto per il lavoro al quale Dio lo stava preparando. Divenire il fedele servo di Faraone per governare l'Egitto e salvare il popolo d'Israele. Dio mandò suo figlio a salvare il mondo. Ma è scritto di lui, Ebrei 5, verso 8. Benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Gesù dovette imparare a nascere in una stalla. A stare sottomesso ai genitori fino a trent'anni, fino a che Dio lo ha unto dall'alto. A pazientare quaranta giorni e quaranta notti per poter sconfiggere il maligno. Ad usare le scritture e a non fare nulla che non fosse basato sulle scritture e che il Padre le lo mostrasse. A vivere di poco, spesso nella povertà. A rifiutare il falso successo, quando nel deserto gli fu offerto il mondo su una palma di mano, e poi ad essere re. Matteo capitoli 4 e Giovanni capitolo 6, verso 15. Nel Ghezzemani dovete imparare fino in fondo a non fare la sua volontà ma quella del Padre, e quindi a morire in croce per noi affinché noi vivessimo. A superare le offese guardando a Dio, ad amare chi lo odiava e a non fare le sue vendette, ma a perdonare chi lo perseguitava, insultava e che lo avrebbe persino ucciso, e ad evangelizzare anche mentre era trafitto. Filippesi 2, da 5 fino a 9. Ed è stato per questa sua disponibilità di dire a Dio sì in ogni cosa, il motivo per cui noi non andremo all'inferno. E noi? Stiamo imparando le nostre lezioni che ci permetteranno di compiere il piano, il proposito e lo scopo per il quale Dio ci ha creati? Come per i Suoi profeti, anche per noi, Dio ha il Suo proposito ancora prima che nasciamo. Geremia 1, da 4 fino a 5. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo della tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato, e ti ho costituito profeta delle nazioni. Isaia 49, verso 1. Isole, ascoltatemi, popoli lontani, state attenti. Il Signore mi ha chiamato fin dal seno materno, ha pronunziato il mio nome fin dal grembo di mia madre. Galati 1, 15 e 16. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiace di rivelare in me il figlio suo, perché io lo annunziassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo. Stiamo rispondendo a Dio con il nostro sì da un cuore pieno di amore in tutto quello che Lui ci chiede di imparare e di fare, affinché ci possa usare per la sua gloria e perché ci possa benedire, così che possiamo sapere che lo abbiamo fatto felice, avendo adempito lo scopo per cui ci ha creati. O passeremo l'eternità frustrati e in amarezza perché non abbiamo risposto positivamente alla sua chiamata. I tanti o pochi talenti che Dio ha dato a ciascuno di noi Suoi figli li useremo per servire Lui o il mondo, per la sua gloria o per il mondo, per costruire per noi o per Lui. Gesù è venuto per invitarci alla grande festa eterna nel Regno di Dio. Come stiamo rispondendo? Cercando disperatamente il modo di servirlo, di onorarlo, di ubbidirli o cercheremo delle scuse come quelli del Vangelo di Luca? Leggiamolo in Luca 14, da 16 fino a 24. Gesù gli disse Un uomo preparò un gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati Venite, perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo le disse Ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi. Un altro disse Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi. Un altro disse Ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo Va presto per le piazze e per le vie della città E conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse Signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto. Il signore disse al servo Va fuori per le strade e lungo le siepi e constringeli a entrare Affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico Che nessuno di quelli uomini che erano stati invitati Assaggerà la mia cena. Vi sono intere chiese oggi Che sperano che Dio li riceva più o meno nel seguente modo Amato figlio, conosco il tuo cuore. So che oltre ad amare il mondo e le cose del mondo I soldi, la tua tv, il buon cibo, il tuo vestiario, l'auto, il tuo impiego, eccetera Dopotutto, in fondo, in fondo, tu ami un pochino anche me, il tuo Dio. Apprezzo i tuoi canti e le prediche che ascolti la domenica mattina Nella tua chiesa di Laodicea Capisco anche la tua scelta di aver disubbidito per tutta la tua vita Alla mia chiamata di raggiungere le mie pecorelle e anime perdute col mio Vangelo Ma ti capisco, sai Eri troppo occupato ad amare e a servire al mondo Ho deciso quindi di avere dei riguardi personali per te Farò un'eccezione Contrariamente a tutto quello che dicono le scritture Per esempio nei capitoli di Apocalisse, capitolo 3 Ezechiele 34, Matteo 23, Giovanni 8 e tanti altri Ho deciso di benedire e premiare la tua infedeltà e disubbidienza E di premiarti proprio allo stesso modo dei miei servi fedeli e ubbidienti E che si sono sacrificati e spesso anche dato la vita per me Poiché tu sei stato così infedele e disubbidiente Ecco, io ti premierò Vieni, vieni tranquillamente Siediti con me a scaldare la panchina del mio trono per l'eternità Capisco perfettamente che, dopo tutto, è stato solo questo Ti ha insegnato a fare il tuo pastore di chiesa Che è anche più scalda panche di te Anzi, guarda, altra sorpresa Inviterò anche lui insieme a te Contento? Così potrete propagare la vostra denominazione religiosa anche qui in cielo Contento? In questo modo anche i miei angeli in cielo potranno ammirare sorpresi della vostra incredibile fede Che siete in grado di chiamarvi cristiani Ma senza fare un bel niente di tutto quello che io vi ho comandato Gloria a Dio, c'è qualcuno che crede in questo? La mia impressione, da quel po' che sono riuscito a afferrare dalla Bibbia È che il Signore ci verrà in modo alquanto diverso, credo Credo come segue Apocalisse capitolo 3 Lei vuole leggere Apocalisse 3 Sì, versetto? 14 e 22 All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi Queste cose dice l'Amen Il testimone fedele e veritiero Il principio della creazione di Dio Io conosco le tue opere Tu non sei né freddo né fervente O fosse tu pur freddo o fervente Così, perché sei tiepido E non sei né freddo né fervente Io ti vomiterò della mia bocca Tu dici Sono ricco, mi sono arricchito E non ho bisogno di niente Tu non sai invece che sei infelice fra tutti Miserabile, povero, cieco e nudo Perciò io ti consiglio di comprare da me Del oro purificato dal fuoco Per arricchirti E delle vesti bianche per vestirti E perché non appaia la vergogna della tua nudità E del colirio per ungerti gli occhi e vedere Tutti quelli che amo Io li riprendo e li corrego Sì dunque esellante E ravvediti Ecco, io sto alla porta e busso Se qualcuno ascolta la mia voce E apre la porta Io entrerò da lui E cenerò con lui Ed è lì con me Chi vince Lo farò sedere presso di me sul mio trono Come anch'io ho vinto E mi sono seduto con il padre mio sul suo trono Chi ha orecchie ascolti Ciò che lo spirito dice alle chiese Luca 9, 62 Nessuno che abbia messo la mano all'aratro E poi volga lo sguardo indietro E ha dato per il regno di Dio Anche da 57 fino a 61 Mentre camminavano per la via Qualcuno gli disse Io ti seguirò dovunque andrai E Gesù gli rispose Le volpi hanno delle tane E gli uccelli del cielo dei nidi Ma il filo dell'uomo non ha dove possare il capo A un altro disse Seguimi Ed è le rispose Permettimi di andare prima a sepelire il mio padre Ma Gesù gli disse Lascia che i morti sepeliscono i loro morti Ma tu vai a rannunziare il regno di Dio Un altro ancora gli disse Ti seguirò Signore Ma lasciami prima salutare quelli di casa mia Ma Gesù gli disse Nessuno che abbia messo la mano all'aratro E poi volga lo sguardo indietro E ha dato per il regno di Dio Luca 14 da 33 fino a 35 Così dunque ognuno di voi Che non rinunzia a tutto quello che ha Non può essere mio discepolo Il sale certo è buono Ma se anche il sale diventa insipido Con che cosa gli si darà sapore Non serve né per il terreno Né per il concime Lo si butta via Chi ha orecchi per udire Oda Matteo 10, 38 Chi non prende la sua croce E viene dietro a me Non è degno di me Chi non prende la sua croce E non viene dietro a me Non è degno di me In questa vita possiamo scegliere Di appartenere a religioni più morte che vive E vivere da credenti passivi Ma a quale denominazione apparteremo Nel regno di Dio In Matteo 25 Gesù ce ne mostra solo due Quella della sposa di Cristo E quella della non sposa di Cristo Non tutti sanno che in cielo Non sarà Dio a scegliere chi benedire e chi no Chi regnerà con Cristo e chi no Ma stiamo invece decidendo proprio noi Ora Qui Adesso E subito Anche per questo Dio ha inviato Gesù Perché potessimo scegliere tra Lui e il mondo Il suo amore e il nostro egoismo Il nostro interesse è quello di Dio e di Cristo e delle sue pecore La scelta primaria non è tra Gesù e il diavolo Scelta non troppo difficile Ma tra lo scegliere tra Cristo e noi Ma attenzione a come scegliamo Galati 6 verso 8 Perché chi semina per la sua carne Mieterà corruzione dalla carne Ma chi semina per lo spirito Mieterà dallo spirito vita eterna Romani 6 16 Non sapete voi Che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirli Siete schiavi di colui a cui ubbidite O del peccato che conduce alla morte O dell'ubbidienza che conduce alla giustizia Fino a 18 Ma si è ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato Ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento Che vi è stata trasmessa E, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia Sappiamo che nella nostra chiesa Vi sono alcuni di noi che ancora non hanno deciso di dare tutto al Signore Chi ancora non ha fatto deve decidere Ubbidienza o disubbidienza al Signore e alla Sua parola Scegliere tra nostro interesse, la nostra volontà E quello che è per il bene del regno di Dio e delle sue pecore Le anime perdute Vediamo l'importanza delle scelte in Giudici 10 Da 6 fino a 14 Fili di Israele Continueranno a fare ciò che è male agli occhi del Signore E servirono gli idoli di Baal e di Astarte E gli dei della Siria Gli dei di Sidon Gli dei di Moab Gli dei delle Ammoniti Gli dei dei Filistini Abbandonarono il Signore E non lo servirono più L'ira del Signore si ascese contro i figli di Israele Ed egli li diede nelle mani dei Filistei E nelle mani dei figli di Ammon Allora i figli di Israele gridarono al Signore E dissero Abbiamo peccato contro di te Perché abbiamo abbandonato il nostro Dio E abbiamo servito i vari Baal Il Signore disse ai figli di Israele Andate a gridare agli dei che avete scelto Vi salvino essi nel tempo della vostra angoscia Grazie al Signore Quindi attenzione a cosa mettiamo la fede Se mettiamo la fede nel mondo Nella politica Nei soldi Nel materialismo Nel momento del bisogno Ok E può anche darsi che Dio non ci risponde Va bene? Perché magari c'è un problema Mancanza di pentimento Mancanza di Cioè di Dio Qui li ha mandati Andate dai vostri dei a farvi curare Andate dai vostri dei a farvi salvare E prima che lui li salvasse Che poi Dio Permesse ricordi e li ha aiutati Ha fatto passare del tempo Finché si svegliassero un po' Capito? Cioè ripetutamente Capabiamente Ostinatamente Da un esempio della loro vita Come oggi Si va in chiesa domenica E lunedì al sabato Si ritorna dagli idoli Attenzione Va bene lavorare Per pagarvi l'affitto E accudire alla famiglia Paolo Vediamo che costruiva tende Per non essere di peso A volte È una cosa abbastanza rara Perché ha fatto solo Un piccolo frangente di tempo Ok? Però Diciamo Anche se dovete lavorare Per sostenere la famiglia Attenzione a non servire il mondo Più di Dio Va bene? Attenzione Amen Il messaggio per noi Se nei momenti di prosperità Quando abbiamo ampia possibilità di scelta Scegliamo il mondo L'interesse nostro Delle nostre finanze Torna conto E del vivere bene Allora queste cose Sono i nostri idoli Per questo che A volte Dio Non sembra rispondere Alle nostre preghiere Perché vogliamo il suo aiuto Ma non siamo disposti Ad abbandonare i nostri idoli Le nostre tv L'amore per il denaro Per il mondo Per noi stessi Per i nostri vantaggi E Dio ci offre la scelta Giosuè 24 E se vi sembra sbagliato Servire il Signore Scegliete oggi Chi volete servire O gli dei Che i vostri padri Servirono Di là dal fiume O gli dei Della Morei Nel paese Dei quale abitate Quanto a me E alla casa mia Serviremo il Signore Primo re 18 21 Allora Elia Si avvicinò A tutto il popolo E disse Fino a quando Zoppichierette Da due lati Se il Signore È Dio Seguitelo Se invece Lo è Baal Seguita Lui Il popolo Non le rispose nulla Quante volte Io ho dato questi messaggi In molte chiese E non mi hanno risposto nulla Non avevano coraggio Di abbandonare I loro idoli E non mi hanno più invitato A nuove chiese Gli faceva male Il messaggio Cosa dobbiamo fare? Dice il Signore Se toglieremo gli idoli Nel nostro caso Gli idoli moderni Della nostra vita Allora Egli ci benedirà Primo Samuele 7 Versi 3 e 4 Allora Samuele parlò A tutta la casa D'Israele E disse Se davvero Tornate al Signore Con tutto il vostro cuore Togliete di mezzo a voi Gli dei stranieri E gli idoli di Astarte Volgete risolutamente Il vostro cuore Verso il Signore E servite Lui Lui solo Allora Egli vi libererà Delle mani Dei filistei Così I figli di Israele Tolsero via Gli idoli Di Baal E di Astarte E servirono Il Signore Soltanto Baal Era il dio Del materialismo Astarte Era il dio Del sesso Oggi Sarebbe Pornografia E perversione Sessuale Omosessualità Trans Ed ogni Porcheria Che il mondo Innalza Va bene? Dobbiamo vedere Se stiamo Tolerando Gli idoli Del mondo Moderno Nelle nostre vite Se lo faremo E in tutta onestà Applicheremo A noi La parola Di Dio Che è Applicabile A noi Solo Allora Dio ci Benedirà E libererà Dalle mani Dei nostri Filistei Cioè Da quello Che il diavolo Sta facendo Contro di noi Per distruggerci Dobbiamo Avere Il coraggio Di controllare Se il messaggio Di Dio Si applica Anche a noi Quindi Avere il coraggio E l'onestà Di applicare La medicina A noi stessi E solo Allora La Bibbia Diventa Viva Attuale E scritta Per noi Oggi E funziona E produce I miracoli Che Dio Ha preparato Per noi E che sinceramente Desidera Darci Ma se non Spaziamo via Le immondizie Del mondo Della nostra vita Dio non potrà Edificarci su Se passeremo L'eternità Uniti a Gesù In matrimonio O separati Dallo sposo celeste Dipenderà Solo da noi E dalle nostre Presenti scelte Che sono dentro La sua volontà E benedizioni O fuori di questa Ascoltiamo Le benedizioni Che Dio Ha per noi Isaia 42 Verso 16 Farò camminare I ciechi Per una via Che ignorano Li guiderò Per sentieri Che non conoscono Cambierò davanti A loro Le tenebre In luce Renderò Pianeggianti I luoghi Impervi Sono queste Le cose Che io farò E non Li abbandonerò Isaia 60 Da 1 Fino a 22 Sorgi Risplendi Poiché la tua Luce è giunta E la gloria Del Signore È spuntata Sopra di te Infatti Ecco Le tenebre Coprono la terra E una fitta Oscurità Avvolge i popoli Ma su di te Sorge il Signore E la sua gloria Appare su di te Le nazioni Cammineranno Alla tua luce Il re Allo splendore Della tua aurora Alza gli occhi E guardati intorno Tutti si radunano E vengono da te I tuoi figli Giungono da lontano Arrivano Le tue figlie Portate in braccio A loro Guarderai E sarai raggiante Il tuo cuore Palpiterà forte E se Allergerà Poiché L'abbondanza Del mare Si volgerà Verso di te La ricchezza Delle nazioni Verrà da te Abbiamo letto Fino a verso 5 Si legge anche 19 e 20 Per favore Non più il sole Sarà la tua luce Nel giorno E non più la luna Ti illuminerà Con il suo chiarore Ma il Signore Sarà la tua luce Perenne Il tuo Dio Sarà la tua gloria Il tuo sole Non tramonterà più La tua luna Non si oscurirà più Poiché il Signore Sarà la tua luce Perenne I giorni del tuo luto Saranno finiti Anche il 22 Il più piccolo Diventerà un migliaio Il minimo Una nazione potente Io e il Signore Affretterò le cose A suo tempo Questo parla Dei premi Che il Signore Darà A quelli Suoi Discepoli Fedeli Quando distribuiranno I premi Dopo la Dopo il rapimento Dopo la risurrezione Quando I fedeli Saranno re E regine Di nazioni Di città Di regioni Di nazioni Di continenti E un giorno Di pianeti Di galassie Che saranno riempite Secondo me Anche quelle Di persone Quindi il regno Di Dio Non aumenta Il regno di Dio Si moltiplica Capisce È una cosa incredibile Non ha riempito Le galassie Così perché Gli avanzava E aveva tempo Da sprecare C'è uno scopo Secondo me Così come L'Europa Fu riempita E diciamo Traslocarono Si spostarono In America Quando il pianeta Sarà riempito E Gli sposterà Su un altro pianeta Quindi su un altro Sistema solare Quindi su un'altra galassia E così via dicendo Questo come la vedo io Perlomeno come L'ho sentito dal Signore E allora Il Signore Gli serviranno Re, Regine Guide, Sacerdoti E via Dicendo Infatti in Luca 22 Gesù ha detto Voi che mi seguite E che soffrite Insieme a me Così come il Padre Ha assegnato a me Un regno Cioè che è tutto Anch'io Assegno anche a voi Un regno E chi vi siederete A giudicare Insieme a me Le tribù di Israele Israele antica Israele nuova Israele spirituale Cioè i cristiani Che si rifiutano Tassativamente Di andare a portare Vangelo ai perduti Va bene Proprio si rifiutano In tutti i modi Si disperano Per trovare il modo Per scoprire La Bibbia Dove dice Che non sono chiamati Che non ci bisogna Evangelizzare Che è giusto Che i perduti Vanno all'inferno Che le anime perdute Non vanno raggiunte E seguono qualunque Falso profeta Che gli solletichi Le orecchie Che permetta loro Di continuare Per la loro disobbedienza E queste sono La laudicea Di cui il Signore Si vergognerà E che non faranno Parte delle vergine Con olio Saranno senza olio Non faranno parte Della sposa Avranno tutte Tutte l'eternità Per pentirsi Di quello Che adesso Non vogliono fare Fratelli Addrizziamo le orecchie Va bene Ma non facciamolo Perché Dio ci darà Un regno No Facciamolo Perché Lui Ha versato il sangue Della croce Per noi Facciamolo Per amore Mia moglie Non è sposata A me Perché ho una macchina Ok Tra l'altro È anche macchina usata Non è che sia anche Perché mi ama E io amo lei Ci amiamo Noi non siamo qui insieme A seguire il Signore Perché C'è una buona cuoca Qui Cos'è Cosa dice No Non c'è La buona cuoca Quindi Abbiamo scoperto Quello non è il motivo Allora Ma perché ci vogliamo Bene Va bene Allora dove siamo Angela Stiamo imparando le nostre lezioni E a vingere giorno per giorno Agli inganni che il nemico mette attorno a noi Così che Dio ci possa benedire E scegliere per stare con Gesù per tutta l'eternità Nel regno di Dio che sta per venire presto Dio sta cercando di preparare a questo Ma solo quelli che accettano di farsi preparare tramite la loro ubbidienza al Signore Secondo Corinzi 11 verso 2 Stiamo accettando di farci preparare dal Signore Stiamo accettando Allora cosa dice Infatti sono geloso di voi dalla gelosia di Dio Perché vi ho finanziati a un unico sposo Per presentarvi come una casta vergine a Cristo Ecco la promessa per chi di noi sarà fedele Luca 22, 28 fino a 30 Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove E io dispongo che vi sia dato un regno Come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me Affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno E sediate sui troni per giudicare le dodici tribù di Israele Dio benedica chi sceglie la sua volontà Ora, qui e subito, senza rimandare Perché il domani non è mai venuto e non verrà mai Tutte le cose meravigliose che speravamo e aspettavamo in quel domani E' arrivato nel momento in cui siamo rinati in Gesù E vi stiamo vivendo proprio ora, in questo momento Smettiamo di trascinare il caro pieno delle nostre paure, preoccupazioni, esitazioni, mancanza di fede Di ascoltare chi ci distrugge la nostra fede Abbandoniamo tutto e lanciamoci con Gesù Seguiamo Lui, crediamo solo in Lui Diamo il nostro cuore solo a Lui Mettiamo la nostra fede solo in Lui Perché tutti ci falliranno prima o poi E per grazia di Dio entreremo finalmente nella via diritta e stretta delle benedizioni e protezioni della volontà di Dio E tu? Sei con noi? Grazie Gesù Signore Grazie Signore, grazie Gesù Amen Quindi questo messaggio innanzitutto per me, per noi qui, nella nostra Chiesa E credo per voi tutti che ci ascoltate E' una decisione, decisione ogni momento, ogni giorno Ascolteremo chi ci ferma o ascolteremo Gesù? Ascolteremo chi distrugge la nostra fede o Gesù che ce la rinforza? Se siamo uniti ai fratelli che vanno avanti o ci stiamo disgregando per unirsi a quelli che sono disgregati E falliti, depressi, oppressi, obsessi Qual è la nostra Chiesa? Qual è la nostra Chiesa? Nel mondo ce ne sono due Quella vera e quella falsa Quella tiepida e quella infuocata C'è un'altra, c'è la Chiesa morta Beh, sono tre Chiese C'è morta, tiepida e al 100% Quale Chiesa? Lascia perdere i protestanti cattolici Sono tutte stupidaci, non ci sono protestanti cattolici Va bene? C'è la Chiesa vera e la Chiesa falsa Basta Sì, sì Ok, non c'è Va bene, quindi gloria al Signore Decidiamo ogni giorno Ogni giorno, quando ci svegliamo la mattina Sono disposto a morire per Gesù C'è un fratello che mi ha chiesto guarigione Sono disposto a morire per guarirlo Cioè andare a evangelizzare Sono disposto a morire per dare a quella gente il Vangelo Arriverà il momento che Molti di noi dovranno pagare a quel prezzo Gesù l'ha pagato Gli apostoli l'hanno pagato La prima Chiesa dei 300 anni l'ha pagato E noi? Siamo liberi del cappuccino Ieri sono incappato in un video Ho visto, c'era un predicatore famoso Che come al solito non mi piace fare i nomi Che è bassa classe Tirare fangole ai nomi Non mi piace Lo fanno solo i Giuda Evitiamo i nomi E simpatico, bello, bel pettinato Vestito, una cravatta di grido Scarpe lustratissime Vestito fresco di lava secco E predicavo così bene Così perfetto Davanti a lui c'era un gruppo di 20-30 mila persone Una sala incredibile Tutti a battere le mani e a lodare Dio E questo diceva un sacco di cose giuste Però non era nella volontà di Dio Gesù mi ha detto Vedi quell'uomo Non era nella mia volontà E predicava bene Predicava giusto Guarigioni, miracoli, tutto Ma li faceva sentire bene Li faceva sentire come Che erano nella volontà di Dio Li faceva sentire come erano Nel posto giusto Nel momento giusto Ascoltando il predicatore giusto E il Signore mi ha dato una parola Mi ha detto Sono tutti spettatori Non entro nell'arena È vero, sì Non sono nell'arena Quando c'è da entrare in un'arena Loro non ci sono mai Quando c'è da affronteggiare un leone Loro non ci sono mai Quando c'è da dedicare Le loro possessioni Il loro tempo A me non lo fanno Sono spettatori La Chiesa morta La Chiesi dell'Odicea La Chiesa ricca E questo predicava Che Dio li vuole ricchi e potenti Gesù è venuto per arricchire Per renderci ricchi Non ci vuole Non vuole che soffriamo E così I grassi ingrassano di più Gli spirituali diventano più spirituali Chi sa fare le guarigioni Fa sempre più guarigioni miracolose Chi prega in lingua Prega di più in lingue Chi c'ha doni spirituali Ne aggiunge degli altri E sono grassi Le pecore grasse E questo Il Signore ha mostrato E ha detto Questo è un predicatore Che sta dando da bere A uno che è ubriaco Sta dando da mangiare A uno che ha bisogno Di andare in dieta E mentre Basta che uscivi dall'auditorio E fuori c'era gente Che camminava Posseduti Stragoni Atei Divorziati Ragazzi in ribellione Ragazzi che vanno in discoteca A drogarsi A cercare A fare A fare il sesso Nei gabinetti Con le donne Nei parcheggi A prendere malattie A ricevere spiriti Del diavolo E loro sono lì A dire No grazie Signore che ci ha salvato Sono anni Che cantano Grazie che ci ha salvato E ora è la chiesa morta E' triste Ecco perché Dio Deva mandare l'anticristo Per punire questa chiesa Dio ha mandato La Siria Ha mandato Babilonia Li ha mandati in Egitto Ha mandato Roma Per punire Un'Israele Infedele Che non ha voluto Raggiungere il mondo Non ha voluto Essere una luce Sulla collina Per raggiungere Il mondo che moriva Anzi Non entravano In una casa Di un romano Per non contaminarsi Se c'era uno Buttato per terra Nel sangue Non l'aiutavano Perché si contaminavano Era contro la legge Se si aiutavano Un poveraccio Colpito dai ladroni Ci è venuto Il samaritano Per aiutare Uno che non gli interessava Se seguiva la legge O no Il prete è passato Il Guarda Guarda La parabola Dice Passato un prete E poi è passato Un levita Cioè non poteva dire Un ateo Un posseduto No Un levita E un prete Sono passati Cerchiamo di capire Il messaggio Cioè è passato Un protestante Un battista Un cattolico Un altro Capisci che Cerchiamo di leggere La Bibbia Cerchiamo di tradurla Nella lingua di oggi Quando dice Le vita Leggi Protestante Cattolico Cerchiamo di capirla Se quello Aiutava Aiutava quel poveraccio Si contaminava La legge De Mosè Dice Fino alla notte Tutto il giorno Non puoi toccare nessuno Non potevo andare Alla festa Andare al tempio A pregare Se aiuto questo Mi contamino Non posso andare al tempio A pregare Andare a pregare E quindi lascialo morire E questa è la religione Di oggi Morta Stramorta Ultramorta Manca solo Essere seppellita Ci penserà l'anticristo Appena arriva Angela Si si E' proprio Una immagine reale Una presentazione reale Di quello che la chiesa E' oggi E' triste Ma è proprio così Il tuo predicatore Ieri sera l'ho visto E predicavo così bene Ogni scrittore Era giusta Le scrittore erano giuste Ma il messaggio Era sbagliato Il messaggio era Chiesa di Sardi Chiesa dell'Odicea Chi non è l'Odicea Chi non è Sardi Avrei detto Alzate la mano Bene Quanti siamo Ad ora Chiudere questa baracca qui Andare fuori E cercare le pecore Un'altra volta in Perù Mi hanno invitato a predicare Una chiesa evangelica E si sono pentiti Che l'hanno fatto Vero? Ci alziamo a pregare Si sono alzati E ho cominciato a dare Un messaggio tipo questo Dopo poi si sono seduti E ho detto Perché vi siete seduti Io non sono seduto Alzatevi E mi hanno guardato Ma come si permette Questo dire a noi Cosa dobbiamo fare Alzatevi 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 E te ne hai chiese I ortodossi Che sono stati in Europa Dell'Est Stanno in piedi Due ore Non ci sono sedie Dora ortodossa Tu È vero È così Stai in piedi Due ore Due ore in piedi L'ortodossi Non ha cambiato niente Nella barba Nel cappellino Niente Era così che si usava Adesso addirittura Poltrone imbottite Solamente Gli ammalati E gli anziani Ammalati e anziani Che sennò cascano per terra Anche quelli Si potrebbe Anche guarirli Avete capito Amen Angela Amen 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 Grazie Signore Sì No è triste È così Inganevole vedere Come hai detto tu Chiese grandi Tanti credenti Che lodano Dio Lodano Amali Dio Tutto perfetto Prediche buone Giuste Corrette Ma inganevole Perché sono solo spettatori La vera chiesa Cento persone È una chiesa falsa Perché? Perché cento persone Come fa a mangiare insieme? La chiesa ideale è questa Una dozzina Perché? Perché Gesù aveva una dozzina Quando siete in venti Attenzione È quasi tempo di dividervi È quasi tempo di iniziare due chiese Oh ma io se inizio due chiese Poi sai La decima la portano all'altra chiesa Non alla mia Ma chi se ne interessa Dalla decima Dagliela al diavolo la decima Va bene? Se ce la danno La usiamo per Gesù Ma non siamo qua per la decima Va bene Siamo qua per Gesù Siamo qua per il Vangelo Deve essere gratis Quindi quando siete venti Cominciate a pensare a dividere Quando siete quaranta C'è posto per quattro chiese Un gruppo che non può mangiare insieme Tutti i giorni È un gruppo falso Perché? Perché nella chiesa primitiva Nel libro degli atti Mangiavano insieme Tutti i giorni E non era come oggi Che raccolgono i soldi Tutti i giorni Ogni domenica E poveracci Va bene? Andiamo avanti Angela Prima che qualcuno ci manda qualche mail Che ci manda qualche accidente Per i mail Non mi ti permette Di parlare così Della mia chiesa Allora Io mi ricordo Abbiamo fatto un teatrino Con queste cose Proprio con la chiesa morta E alla fine Si è avvicinato a noi Un uomo E ha detto Ma quel teatrino là Con questa chiesa morta Che non fa niente per Dio Sembra la mia chiesa Come mai avete fatto questo? Ti ricordi? Io ridio sotto i baffi Sì Vi ridio sotto i baffi L'abbiamo fatta in un teatro Un teatro Sì Un teatrino Per il secolare L'abbiamo fatta Sì In una culture house Abbiamo messo Una casa di cultura Sì I comunisti usavano Per lì Per fare le riunioni E c'era C'era una scenetta Della religione E c'era la musica religiosa Che poi ha messo Il requiem Di Mozart E questa è la musica religiosa E così Vogliamo andare avanti Sì 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 Ascoltiamo una canzone Però non è un requiem La musica religiosa Mi ha messo il requiem Di Mozart E perché è così Guarda C'è più vita Non in cimitero Veramente Ma non so Scazzo In cimitero C'è gente tranquilla Che può evangelizzare Se gli parli Ascoltano anche le scritture Ogni tanto Dove non è chiesto Non ascoltano niente In un cimitero La gente Con i fiorellini Che vanno in giro A dare i fiorellini Ai morti Sono più vivi Di quelle Nelle chiese Che non puoi neanche Dimmi Angela Ascoltiamo una canzone Va bene È bellissima Non è un requiem È Marcello Marocchi Dio aspetta E poi voglio Leggervi delle testimonianze Incredibile E poi facciamo anche Le preghiere di guarigione Dopo le testimonianze Ma se sono incredibili Possiamo crederle però Sì Possiamo crederle Perché Gesù guarisce Gesù libera E Gesù è bellissimo Allora vai avanti Vai con Marocchi Marocchi Dio aspetta Adesso non ho tempo Devo andare in bicicletta Tanto Dio aspetta Lavoro giorno e notte Mi devo riposare Dio può aspettare Io devo andare in bicicletta Io devo andare a scuola Dio può aspettare Dio può aspettare Dio può aspettare Aspetta fino a quando Fino al giorno che Il tuo respiro rimane con te Poi come un ladro Arriva di notte Il tempo è finito Il cuore non batte Mai il tempo se ne va E di noi non ha pietà Presto il conto chiederà Valerai вci La nostra libertà E di noi Il tempo di fumare Un'altra sigaretta Tanto Dio aspetta Il tempo per pensare Lo devo pure avere Dio può aspettare Le cose fatte in fretta non vengono mai bene, lui ci darà tempo se è vero che ci tiene, poi come un ladro arriva di notte, il tempo è finito, il cuore non batte, ma il tempo se ne va. E di noi non ha pietà, resto il conto chiederà per la nostra libertà. Ma il tempo se ne va. Presto il conto chiederà per la nostra libertà. Dio aspetta, Dio ci sta aspettando, non è che noi aspettiamo che Dio risponde, che Dio mi rivela qual è la mia chiamata, è Dio che sta aspettando che noi rispondiamo sì alla sua parola. Perché qui c'è mezzo mondo dei cristiani che aspettano che Dio gli mostra, cioè non è che il Vangelo è più sufficiente, vogliono il Vangelo con il loro nome scritto sopra, Giovannino, Pierino, Giuseppino, perché se no Dio non mi ha mostrato. Allora so, sono alcuni messaggi che riceviamo, ma qual è la mia chiamata, cosa vuole Dio da me? Gesù è il suo calvario per niente, dovrebbe morire di nuovo e loro sono sicuro, vorrebbero che Gesù è il suo calvario con uno cartello in mano, Pierino chiamo te. E poi dice, puoi mettere la mano di nuovo sul chiodo, vogliono una cosa così queste. Cioè è già scritto nel Vangelo duemila anni fa, Gesù ha detto ai farisei, così era Giovanni V, dice ricordatevi che la parola che vi ho detto vi giudicherà nell'ultimo giorno. Nell'ultimo giorno non saremo giudicati della rivelazione che ci ha dato e che non ci ha dato. La rivelazione c'è già, è scritta nel Vangelo, non ci sarà scritto Giovannino e Pierino, ma c'è scritto tutti, c'è scritto le mie pecora, se sei una pecora parla di te. Giovanni 10, le mie pecora ascoltano la mia voce, giusto? Allora se sei una pecora, se a te non ti stai chiamando vuol dire che non sei una pecora. E' certo che ti ha chiamato da duemila anni, prima che eri nato ti stava chiamando. Gesù lo stesso ieri, oggi, domani e? Sempre. Dopodomani e? Fra un mese, fra un anno, e cos'è l'Apocalisse 14,6 cosa dice? Il Vangelo eterno, un angelo che dà il Vangelo eterno, il Vangelo è eterno, non è che ci sarà una rivelazione, un messaggio più grande del Vangelo, non esiste. Non esiste una scrittura meglio di amare Dio con tutto il cuore, tutta la mente, tutto il cervello, tutto il corpo, tutte le possessioni, tutta la casa, la tua macchina. Non esiste una scrittura più grande di amare Dio con tutto il tuo cuore, il tuo prossimo come te stesso. Gesù è il massimo, non esiste qualcosa di meglio di Gesù. E' venuto che vengono le madonne a dire, guarda, mio figlio lo tengo a guinzaglio come un cane, perché se no mi sbrana il mondo questo qui. Questo è un mastino e un Rottweiler, e un Jesusweiler, che se lo mollo un attimo, questo mi distrugge il mondo. Meno male che ci sono io che lo fermo, pentite, io apro la cuccia e esce Gesù, e lui ammazza tutti. E questo sta dicendo questa incredibile ciarlatanata. E c'è gente che ci crede, c'è gente che pensa che c'è la Madonna in cielo, che tiene Gesù fermato. Gesù ha una camicia di forza, perché se no ammazza tutti, spacca tutto, botte d'ordine. E c'è la Madonna con Santa Caterina e Santa Giuseppina che lo tengono. Uno di qua, uno di là, tagli un sedativo, se no ti spacca tutto. Questa è l'immagine che il diavolo ti dà di Gesù. Vuoi andare avanti per cortesia, prima che mi mandano le mail, per favore. Ok. Che se no, qui non cambierà canale, stai attento. Meglio meglio che mi sto zitto. Allora, andiamo avanti alle testimonianze. Sono delle testimonianze bellissime, veramente, che Luciana ci ha inviato, ci ha inviato due testimonianze. Sai che Luciana è una strada speciale? Eh, lo so. E me l'ha detto Gesù. Lo so. E ha una famiglia speciale. Lei è una pastoressa, è una sacerdotessa, la faccia di tutti i farisei che la criticano. Luciana, ti difendo io, Luciana. Digli ai farisei che vengono qua a me, che ho guanti da box, che parlino con me. Saranno cazzottoni, giorni e notti. Cioè, con la scrittura ovviamente, cioè, devo interpretare anche. Amen, amen. Allora, la prima testimonianza riguarda la sua conversione.